Mario, non lo so se ci qualifichiamo per i play-off, in difesa facciamo pena facciamo, cioè c'è l'oeuf che... Senta, ma guardi che non siamo mica al mercato del pesce, non è qui. Senta, scusi, a che ora parte il prossimo bucando? Inizia a portare qualcosa a un elemento un po' diverso che ti caratterizzi, per esempio, tu prendi le lasagne, quelle classiche, invece di farle con il ragù di macinato, le fai con la longaneghetta, ci metti dentro, ma davvero ti garantisco, guarda che adesso non ti sto dicendo le cose che voglio fare. Scusi, non mi indirete, scusi lei. Sì, pronto? Pronto, certo, no, no, prego, mi dica pure.